Ci troviamo oggi è martedì, ci troviamo sempre al nuovo di Via Olimpia, al campo sportivo di Castelfrentano, sono le ore 17 circa, oggi qua in questa struttura si allenano gli esordienti, un nutrito gruppo di esordienti divisi in tre gruppi, in questo gruppo c'è mister Giuseppe Gian Cristoforo, in questo gruppo di esordienti, il mister sta dando i suoi consigli ai ragazzi, stiamo facendo una panoramica, il campo si sta riprendendo pian piano, non fateci caso a queste macchie scure perché è stato messo i prodotti per la ricrescita dell'erbetta, è stato concimato, qua i ragazzi sono tutti carichi, l'ultimo allenamento l'hanno fatto lunedì sotto la pioggia, stanno tutti bene, tutti in salute, qua c'è il gruppo di mister Giuseppe, in quanto quest'anno sicuramente, anzi non sicuramente, già fatto, abbiamo iscritto tre squadre al campionato di esordienti a nove, che giocano a nove, abbiamo iscritto tre squadre, in quanto tra i campi previsti, così giocheranno tutti i ragazzi iscritti, quelli vecchi già tesserati dall'anno scorso e ci sono molti nuovi che lo riconoscete dalle varie divise di diversa foggia, in quanto fra pochi giorni arriveranno le divise ai ragazzi, a quest'altro lato c'è il gruppo di Simone Giordano, un altro gruppo di ragazzini, sempre della categoria esordienti, c'è il mister Simone Giordano che si è preso questa porzione di campo, pure qua vediamo qualche ragazzino con la divisa si può dire casual, ma è perché ancora non hanno la divisa, sono nuovi iscritti di quest'anno, c'è il mister Giordano, l'ultimo allenamento l'hanno fatto venerdì scorso, ecco pure Nicolò, un suo ritorno dopo un periodo di assenza, giusto, del campionato scorso, qua c'è un altro gruppetto, sempre di ragazzini, sempre esordienti, questo è l'ultimo arrivato mi pare del bello Pietro, bravo ecco del bello Pietro, sta qua, come ti chiami? Fabrizio, di cognome? Coccia, bravo, primo anno giusto, bravo, pure l'altro che sta facendo il Torello è nuovo giusto? Come ti chiami? E il cognome? Varnieri, bravo, di Lanciano? Sì, bravo, invece quelli con la divisa classica nero-azzurra sono i ragazzi che già tra i serati dall'anno scorso. Mister Giordano dà i consigli, quando necessita ferma il gioco e fa, bravo. A quest'altro lato c'è il terzo gruppo sempre degli esordienti, c'è Mister Roberto Verna che sta facendo fare degli esercizi ai suoi ragazzi. Siamo una società seria che rispetta i parametri allievi e istruttori. Abbiamo la d'Ottavio Marco, giusto, bravo, il fratello del portiere Matteo dei allievi. Abbiamo uno nuovo, bravo, Mister Roberto che osserva e richiama. Oggi è martedì, ognuno esegue il suo esercizio preparato dal Mister, attrezzatura ce n'è in abbondanza, la società non va da spese, tutti pronti, tra poco inizieranno i vari campionati anche per loro, dopo si fermerà sotto a Natale e riprenderà a Gennaio. Mentre nel Campovecchio si stanno allenando gli allievi di Mister Gabriele. I giovanissimi faranno una gara amichevole domani contro il Lanciano 1920. Lasciamo lavorare i ragazzi e il loro Mister.